Sarà pronto in sei mesi e sorgere a fianco dello Stadio Oganeo di Padova nel parcheggio Sud, andando a costituire l'embrione della futura cittadella dello sport di Padova, il Pale Oganeo. Stiamo parlando del nuovo Pala Endor di Atletica Leggera, di cui è stato presentato il primo stralcio del progetto definitivo, uno spazio dedicato alla regina degli sport, ma che verrà utilizzato anche per manifestazioni culturali e musicali. Il primo tassello, l'avvio della cittadella dello sport, proprio per non lasciare lo Stadio Oganeo da solo, ma soprattutto per dare una risposta ad uno sport che primeggia nella nostra città, grazie anche a tante di atletica sportiva di atletica leggera. Questo poi è un impianto che ha una valenza veneta, è finanziato dalla Regione Veneto, ma anche per l'Italia settentrionale. È l'unico impianto che rimarrà permanentemente per l'atletica leggera indoor di tutta l'Italia settentrionale. L'anto impianto è a Dancona, quindi servirà un bacino enorme di atleti, di sportivi, per fare il meglio possibile l'atletica leggera, ma anche per consentirsi di avere qui a Padova delle importanti manifestazioni e mi augura anche la manifestazione europea di atletica leggera indoor. La città in primo luogo, ma anche tutto il nord-est, aspettava da tempo una simile realizzazione sportiva. In questi tre anni, infatti, nello spazio ricavato nell'ex Foro Boario di Corsa Australia, si sono svolte 40 gare a livello nazionale, interregionale e regionale, con la presenza totale di 10.000 atleti e ben 30 scuole hanno utilizzato l'impianto. Numero in crescente aumento, tanto da richiedere spazi più grandi e un luogo idoneo. Il Pala Indora costerà 2 milioni e mezzo di euro e verrà finanziato da un fondo regionale e da un subvenzionamento della Cassa di Risparmio del Veneto. Potrà ospitare, oltre all'Atletica Leggera, anche allenamenti, gare e manifestazioni di ginnastica artistica. A gestire l'impianto sarà infatti la FIDAL, la Federazione di Atletica Leggera e la Società Padovana Corpo Libero di Ginnastica Artistica. Dal punto di vista strutturale, il Pala Indora sarà a 120 metri di lunghezza, 55 di larghezza e 10 metri di altezza, per un totale di 6.000 metri quadri con 700 posti a sedere.